E' avere una seria campagna di vaccinazione, noi abbiamo presentato a Draghi un progetto per una campagna di vaccinazione per il Paese, bisogna vaccinare il maggior numero possibile di italiani per arrivare ad una immunità di greggio il prima possibile. Questo è quello che va fatto, se si vince la pandemia dal punto di vista sanitario sarà molto più facile vincere la pandemia anche sul terreno economico. Contemporaneamente bisogna lavorare anche per aiutare le piccole e medie imprese che stanno soffrendo, tanti settori, le partite IVA, però bisogna avere una visione complessiva. Draghi dovrebbe avere una visione complessiva, sempre certamente collegata alla politica europea, collegata a una visione della politica esterna transatlantica, basta con troppe strizzate d'occhio alla cima, è un interrogutore, il nostro principale interrogutore sono gli Stati Uniti. Intanto bisogna lavorare, i governi non è che nascono con un tempo, non è un governo balneare quello che deve nascere, non stiamo pensando a un governo balneare, quindi un governo che vive tutto il tempo necessario.